Gli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia hanno ritrovato in località Spineta un furgone ed un trattore risultati rubati. Durante le perquisizioni effettuate inoltre hanno rinvenuto un chilo di marijuana del valore di 6.000 euro proprio all'interno del furgone. Gli accertamenti condotti hanno confermato che il trattore era stato rubato da un'azienda agricola di Eboli mentre il furgone proveniva dalla provincia di Avellino. Le indagini ora si stanno concentrando sull'identità dei ladri che potrebbero aver lasciato molte tracce all'interno dei veicoli.